Un saluto a tutti gli utenti d'Italia Medievale, oggi presentiamo un bel saggio appena pubblicato da Carocci dal titolo Il pensiero di Pandora, donne e politica dall'antichità al settecento, di Alessandro Muglieri, che abbiamo piacere di avere nostro ospite, al quale come mia abitudine io lascio subito la parola perché ci parli di questo vaso di Pandora. Prego professore, a lei. Grazie mille, grazie mille per questa opportunità e per la possibilità di presentare il libro. Io inizio subito con raccontare un po' il contesto, diciamo così l'origine di quest'idea che mi ha portato poi a scrivere questo volume. Tutto nasce innanzitutto da un progetto europeo sul quale sto lavorando, un progetto finanziato dalla Commissione Europea, è una Global Marie Curie-Skodowska Fellowship, all'interno del quale mi occupo del tema dell'alterità nel pensiero politico della prima modernità e quindi utilizzo o comunque studio il modo in cui per esempio il linguaggio politico dell'aristotelismo è stato utilizzato in dibattiti che riguardano il tema dell'alterità. All'interno di questo progetto mi si chiede, diciamo, uno degli aspetti importanti di questi progetti europei riguarda la divulgazione e quindi la possibilità di raccontare anche a un pubblico non specialistico i temi che rientrano all'interno del progetto. Dunque, quindi questo diciamo è un po' il contesto così istituzionale del libro. Allo stesso tempo tantissime storie raccontate nel libro, tantissime figure raccontate nel libro, in realtà sono anche il risultato di anni di lezioni che io ho avuto la fortuna di appunto portare avanti in diversi paesi europei e negli Stati Uniti, dove da tempo c'è una domanda, diciamo, di diversificazione del canone o di diversificazione degli autori e delle idee che vengono proposte all'interno dei programmi di insegnamento e di ricerca delle università. Anche in Italia, devo dire, si comincia, diciamo, a lavorare su questo, però l'idea era un po' anche di portare questa expertise che io ho accumulato negli anni in vari paesi europei e negli Stati Uniti e di raccontarla anche a un pubblico italiano. Quindi questo è, diciamo, il modo in cui è nata l'idea stessa del libro. Quindi di che si occupa il pensiero di Pandora? Il pensiero di Pandora è un modo per raccontare la storia delle grandi idee politiche dall'antichità al Settecento focalizzandosi su quelle idee, su alcune idee favorevoli alla condizione femminile che sono sempre andate in controtendenza in quel momento storico, prima, cioè dell'età contemporanea, rispetto alla narrativa dominante, se vogliamo. E c'è tutto un mondo da raccontare, in realtà, un mondo che, ancora una volta, ripeto, non è, come dire, è un mondo minoritario sempre, però comunque un mondo fatto di autori, fatto di idee, fatto di tradizioni, che tenta di rivalutare la figura femminile o di occuparsi del rapporto tra i sessi e tra i generi. Ovviamente siamo in un momento prima dell'età contemporanea in cui i concetti di genere e sesso si identificano, anche se in modi complessi. Quindi, appunto, un racconto alternativo sulla condizione femminile e sull'eguaglianza di genere. Naturalmente, utilizzare questa categoria, eguaglianza di genere, che è una categoria contemporanea, per contesti, idee, narrative del mondo contemporaneo, deve essere fatto, come dire, con cautela, e il modo in cui io lo faccio è prendere questa concezione di eguaglianza di genere come una sorta di strumento analitico per leggere alcuni di questi autori, che non erano necessariamente interessati, ovviamente, specificamente all'eguaglianza di genere. Lavoravano su altri temi e all'interno del loro lavoro su questi temi spesso propongono alcune idee innovative. Allora vado a raccontarvi un po' il contenuto e l'idea che sta dietro a ciascuno dei capitoli. I primi due capitoli riguardano l'età antica, la Grecia antica. Nel primo capitolo mi occupo di questa figura veramente affascinante, la figura di Aspasia, che è una donna che nel contesto complesso dell'Atene del V secolo, in realtà, ha un ruolo di primo piano, anche perché è l'amante di Pericle, e anche perché ci viene raccontata dalle fonti come una donna estremamente colta. C'è un libro che è stato pubblicato recentemente da un classicista inglese, Armand D'Angour, in cui si racconta la figura di Socrate attraverso una rivalutazione del rapporto tra Socrate e questa figura di Aspasia, perché Socrate, quando era in giovane età, in realtà conobbe Aspasia, e secondo D'Angour forse provò anche dei sentimenti d'amore, diciamo, nei confronti di Aspasia. Quindi nel primo capitolo mi soffermo innanzitutto sul Menesseno, che è questo dialogo minore di Platone, nel quale Socrate a un certo punto, Platone fa dire a Socrate, che Aspasia era stata la sua maestra, e Socrate declama un dialogo, in realtà racconta, no, declama un epitaffio, che a un certo punto capiamo essere stato una fonte di ispirazione del famoso epitaffio di Pericle del 530. e la cosa interessante è che, secondo D'Angour, questo in qualche modo ci permette di considerare Aspasia non soltanto quella figura femminile che già conoscevamo da varie fonti come una protagonista della vita ateniese di quegli anni, ma anche come appunto una maestra di Socrate, un tema che spesso in realtà viene trattato in maniera ironica dagli interpreti, cioè si sostiene che il Menesseno in realtà, quest'idea raccontata da Socrate, è un'idea ironica. Invece D'Angour la prende sul serio, forse, come dire, la porta all'estremo, nel senso che sostiene, che quindi potremmo considerare Aspasia un po' così la maestra effettivamente di Socrate. Il secondo aspetto interessante di questa figura di Aspasia è l'idea che, secondo D'Angour, questa figura debba essere identificata con la famosa sacerdotessa di Otima del simposio di Platone, e quindi il famoso discorso che Socrate fa, che Socrate riporta, perché dice di averlo sentito da questa sacerdotessa misteriosa di Otima, una figura che spesso gli interpreti considerano come una figura non esistita o immaginaria, secondo D'Angour invece ci sono delle prove che dimostrerebbero che questa figura si identificherebbe con Aspasia. E questo ovviamente dà realtà concreta all'ipotesi di D'Angour che Aspasia fosse stata la maestra di Socrate. Nel secondo capitolo, legato a questo tema di Aspasia, mi occupo del cosiddetto, o racconto il cosiddetto, proto-femminismo platonico. Ora, molti interpreti hanno parlato in realtà del proto-femminismo platonico, e alcuni non amano nemmeno, come dire, definirlo proto-femminismo. Spesso, quando si parla di questo tema, se ne parla come di una sorta di incidente di percorso nel pensiero platonico. Ci sono moltissimi passaggi di altre opere platoniche che non sono La Repubblica, che è l'opera dove Platone effettivamente mostra queste idee favorevoli nei confronti delle donne. Platone, dicevo, ci sono molte altre opere in cui Platone in realtà spiega in maniera diffusa e chiara le sue idee e posizioni misogene o comunque molto avverse alla figura femminile. E spesso questi passaggi, che non sono nella Repubblica, vengono considerati centrali anche per l'interpretazione stessa della Repubblica. E qui nel capitolo tento in realtà di prendere sul serio queste idee platoniche nella Repubblica. Platone nella Repubblica sostiene che le donne possono avere lo stesso accesso degli uomini al percorso educativo che deve essere garantito a quelli che poi diventeranno i filosofi re, quindi filosofi governanti della città ideale, e poi sostiene anche appunto che le donne possano avere una funzione centrale, quindi anche nel comando all'interno dell'utopia raccontata nella Repubblica. Di solito si tende a interpretare queste idee alla luce di una sorta di antropologia filosofica più generale nel pensiero di Platone. Cioè ci si dice, in realtà, Platone include le donne all'interno della classe dei governanti perché è interessato a un nuovo prototipo dell'essere umano in quanto tale, quindi non importa se questo essere umano è un uomo o una donna, è un argomento che riguarda l'essere umano come tale, in senso universale. E però il punto è che sembra che in realtà ci sia qualcosa di più, e molti interpreti sottolineano questo aspetto, quindi non si può ridurre l'idea favorevole platonica alle donne e alla condizione femminile nella Repubblica semplicemente o riassorbirla, diciamo, all'interno dell'argomento filosofico platonico. C'è una specificità in Platone e nella scuola platonica, d'altra parte abbiamo testimonianze, e ne parlo nel libro, di figure femminili che erano filosofi all'interno dell'Accademia Platonica, e quindi c'è un, come dire, un atteggiamento di una certa positività nei confronti della figura femminile all'interno della scuola platonica. E quindi queste idee, diciamo, che mostrano una sorta di eguaglianza di genere, con tutte le dovute differenze, diciamo, rispetto a come noi guardiamo a questo concetto, devono essere prese sul serio. E questo è un po' quello di cui parlo nel secondo capitolo. Ci sono poi due capitoli sul Medioevo, e devo dire, questi due capitoli è stato veramente anche gli altri, però in questi capitoli in particolare è stato veramente un piacere andare così a riscoprire e a raccontare soprattutto queste due figure di cui mi occupo. Nel terzo capitolo parlo di Averroè. Averroè, che è il gran commento feo, come dice Dante, Averroè è un autore, un gigante del pensiero filosofico medievale, citato e conosciuto da tantissimi pensatori ebraici e cristiani, quindi un autoritas per definizione, e però quello stesso Averroè in realtà è una figura che porta avanti una serie di idee particolarmente innovative, in controtendenza rispetto al proprio tempo. Tra queste idee c'è anche una ripresa di quel femminismo platonico di cui parlo nel capitolo secondo, e addirittura una personalizzazione del tipo di argomentazione che Averroè utilizza, diciamo, per riprendere il femminismo, il proto-feminismo platonico. Ci sono due aspetti che sottolineo nel capitolo. Il primo è che l'idea che le donne debbono avere accesso allo stesso percorso educativo e quindi possano far parte, diciamo, dei filosofi, possono diventare filosofi e regine, diciamo, mettiamola così, all'interno della città ideale, secondo Averroè è un'idea non solo da condividere, ma è un'idea che tra l'altro affronta un problema pratico, effettivo, che esiste nella società in cui Averroè vive, e cioè l'idea che metà delle persone che vivono nelle città musulmane della Spagna islamica, dove Averroè viveva, in realtà vengono trattate come dei vegetali, come delle piante, e quindi questo c'è un aspetto, diciamo, pragmatico, quasi di utilità sociale nell'idea di riabilitare la figura femminile. Non è soltanto un discorso di utopia filosofica femminile che riprende le idee platoniche, ma in realtà c'è anche questo aspetto pratico, che è molto interessante, che Averroè utilizza per portare avanti le sue idee platoniche e proto-feministe. Un secondo aspetto legato a questo che ho trovato particolarmente sviluppato in alcune studiose che si sono occupate di Averroè è che in alcune opere giuridiche Averroè si spinge addirittura a sostenere che le donne possano assumere una funzione, appunto, di guida della preghiera in area domestica, nella sfera domestica. Quindi una sorta di imama, diciamo, Averroè sembra, come dire, suggerire la possibilità che anche le donne portano avanti, portano anche tutta una serie di esempi, no, su questo tema. E anche questo, insomma, deve essere raccontato, è particolarmente interessante, soprattutto se valutato in quel contesto. Dopo questo capitolo su Averroè c'è un capitolo su Christine de Pisan. Christine de Pisan è una figura davvero affascinante, è stata definita la prima scrittrice della storia, in un certo senso lo è, è una donna che, di origine italiana, naturalizzata francese, che diventa, fa veramente una vera e propria carriera di successo come scrittrice di professione, appunto, di diventare consigliera del re di Francia, di Carlo V, di cui, tra l'altro, scrive una biografia ufficiale, ricordiamoci, in un mondo in cui le donne non studiavano, o comunque studiavano materie domestiche che non avevano a che fare con la politica, soprattutto, e Christine, invece, in controtendenza, grazie a un padre che decide, in realtà, di farla studiare, che si era trasferito dall'Italia, proprio alla corte francese, intraprende questa carriera e diventa una donna di successo, addirittura riesce a costruire un'officina per la produzione e gestione dei libri, e scrive questo che è, non esiterei a definire, un piccolo capolavoro del pensiero medievale, che è quest'opera chiamata La città delle dame, che è una delle opere che scrive, in cui immagina una città interamente costruita e gestita, diciamo, da donne. Ricordiamolo ancora una volta, in un momento in cui questo è totalmente impensabile, e quindi molti lettori contemporanei di Christine probabilmente un po' la deridevano, e abbiamo, tra l'altro, evidenza, diciamo, di reazioni che sono anche così, insomma, particolarmente negative e anche violente, in certi casi, e dall'altra un mondo in cui non solo le donne non hanno accesso ai percorsi educativi tradizionali, ma soprattutto nella sfera della politica, le donne, come dire, hanno un ruolo completamente diverso dagli uomini. Ecco, Christine scrive quest'opera in cui invece racconta, si diverte a raccontare un'altra storia, tutto in stile totalmente medievale, cioè tutto inizia con questa apparizione delle tre virtù, no? Ragione, prudenza e temperanza, ovviamente virtù personificate da donne, che raccontano a Christine questa città ideale, favorevole alla condizione femminile. Nel cercare poi di raccontare queste storie, soprattutto sulla parte antica e medievale, il mio modo di raccontarle è stato anche quello di non considerarle semplicemente come delle eccezioni, o comunque di non raccontarle come delle eccezioni. Cioè l'idea è di raccontare la storia di queste grandi idee politiche, il contesto, queste grandi tradizioni, e all'interno di queste tradizioni, di queste tradizioni, di questo modo tradizionale di raccontare le grandi idee politiche prima dell'età contemporanea, di fare spazio anche per idee favorevole alle condizioni femminile. Quindi non considerare questo tema come un tema di rottura necessariamente, ma anche proprio metterlo all'interno del contesto da cui nasci. Ci sono poi due capitoli sul rinascimento. C'è questa tradizione portata avanti da moltissimi umanisti e pensatori del Rinascimento della querelle des femmes, cioè questo dibattito che porta alla produzione di varie opere, operette, trattati, che si occupano proprio di proporre una comparazione tra gli uomini e le donne, tra la figura maschile e la figura femminile. Molti di questi trattati è un tema che in qualche modo si può far risalire anche alla stessa Christine de Pisà, ma che nel 400, nel 500 e anche nel 600 diventa particolarmente popolare. Ora mi sono andato, sono andato così a raccontare due esempi di uomini che partecipano a questo dibattito della querelle des femmes e che portano avanti una serie di idee che per l'epoca sono particolarmente degne di nota. Il primo è Mario Equicola, un umanista molto importante, che scrive questo trattato all'inizio del 500 de Mulieribus, in cui chiaramente porta avanti l'idea dell'eguaglianza tra uomini e donne. Il secondo è Cornelio Agrippa, che scrive questo trattato chiamato Declamazione sulla nobiltà e la superiorità del sesso femminile, che è una lezione in realtà di inizi del 500, nel 1509, che poi pubblica nel 1529 e che in realtà porta avanti una tesi che molti interpreti hanno letto in maniera ironica, proprio per il radicalismo che caratterizza questa tesi, perché la tesi principale del trattato è che le donne siano superiori agli uomini e addirittura Equicola utilizza anche il testo sacro per portare avanti quindi l'interpretazione della Bibbia, quindi totalmente paradossale in un certo senso, il modo in cui argomenta questa posizione così radicale e originale. Il sesto capitolo è su due donne che contribuiscono a questo dibattito della Querelle de Femme, Moderata Fonte e Lucrezia Marinella. Ora, mi preme particolarmente accennare a questa figura, Lucrezia Marinella, perché non è molto nota in Italia. In realtà i suoi testi sono stati già tradotti negli Stati Uniti diversi anni fa, alcuni dei suoi testi principali, tra i quali c'è questa nobiltà e eccellenza delle donne, un trattato che Marinella pubblica nel 1600 e poi ripubblica nel 1601, che è veramente un trattato impressionante per il tipo di erudizione e per il tipo di idee così di rottura rispetto a certi topoi sulla condizione femminile nell'età precedente all'epoca contemporanea. Marinella è una donna di una cultura immensa, di una cultura immensa, conosce perfettamente Platone, Aristotele, i grandi filosofi, si dà a una serie di interpretazioni estremamente sofisticate ed eleganti di queste figure e anche di altre figure che fanno un po' parte del canone nel contesto in cui scrive e le sue interpretazioni sono tutte volte a affermare un'idea principale. Quest'idea principale, che è simile a quella di Agrippa, è che le donne siano superiori agli uomini. È impossibile leggere questo trattato in maniera ironica se ci sono dei dubbi su Agrippa. Quello di Marinella è proprio chiaramente un trattato proto-femminista in cui addirittura Marinella se la prende direttamente con Aristotele, l'auctoritas per definizione della prima età moderna del mondo medievale dice che alcune idee di Aristotele sulle donne mostrano da una parte una certa invidia dall'altra non ha capito certe cose. Poi ovviamente il rapporto con Aristotele è interessante perché in realtà non è di totale opposizione perché Marinella sa benissimo che essendo un'auctoritas così importante comunque è altresì fondamentale occuparsi del testo aristotelico in maniera complessa. Quindi è un'analisi particolarmente sofisticata. E quindi nel capitolo mi diverto a raccontare questa figura così poco conosciuta ancora in Italia è impressionante che Marinella per esempio non venga considerata o venga considerata pochissimo dagli storici del pensiero politico perché anche là c'è una ripresa del femminismo platonico, del proto-femminismo platonico Marinella dice che Platone ha ragione, Aristotele ha torto quindi c'è una narrativa sul modo in cui le donne si rapportano alla politica che continua sin dall'antichità fino a Marinella. Ci sono poi due capitoli dedicati alle rivoluzioni democratiche del 600 e del 700 e cosa faccio in questi capitoli? Cerco di raccontare, di ripercorrere i motivi delle grandi rivoluzioni democratiche cioè la guerra civile inglese degli anni 50 del 600 la cosiddetta rivoluzione gloriosa, Glorious Revolution del fine anni 80 del 600 e poi in un capitolo finale e quindi sono tre i capitoli, non due in un capitolo finale della rivoluzione francese mi diverto a raccontare il modo in cui alcuni pensatori politici che vengono tradizionalmente associati a queste esperienze rivoluzionarie in realtà hanno avuto delle, come dire, hanno avuto o sono stati accompagnati anche da autrici che si sono occupate di questi problemi e quindi anche dei temi delle rivoluzioni democratiche in maniera completamente diversa e con un'attenzione particolare all'eguaglianza di genere vado un po' più nello specifico nel capitolo settimo racconto la genesi di questo capolavoro della prima età moderna che è il Leviatano di Hobbes pubblicato per la prima volta nel 1651 è un'opera anche militante quindi un contesto politico particolarmente complesso nel raccontare questo contesto però racconto anche una figura che fa così un po' da contraltare diciamo rispetto a Hobbes che è la figura di Margaret Cavendish tra l'altro Cavendish sembra che incontrò Hobbes è una nobile donna che era vicino in realtà alle posizioni filomonarchiche all'interno della guerra civile degli anni 50 del 600 e Cavendish scrive questa opera bellissima devo dire veramente affascinante che si chiama Il mondo sfavillante che pubblica nel 1666 e che è la prima grande utopia al femminile della storia diciamo del pensiero e soprattutto nella prima età moderna quindi c'è Tommaso Moro che nel 500 scrive utopia e poi c'è Margaret Cavendish che scrive questa utopia al femminile in cui immagina se stessa come regina di un mondo immaginario in cui tutto lo scibile umano in realtà viene rappresentato e viene raccontato attraverso gli occhi di una donna in una posizione di governo quindi insomma un tema particolare un modo particolarmente originale di raccontare l'enciclopedia del sapere del tempo di Hobbes e Cavendish nel capitolo ottavo racconto invece l'altra grande figura del Seicento inglese che è John Locke molto spesso considerato il padre del liberalismo autore del secondo trattato sul governo che viene pubblicato in concomitanza con il primo con la rivoluzione gloriosa e il primo grande documento che è una carta dei diritti nella prima età moderna ecco io racconto il contesto dell'opera di Locke e quindi ripercorro certi temi tradizionali legati a questa figura e al contesto in cui questa figura lavora e però racconto quel contesto anche attraverso gli occhi di una pensatrice che si chiama Mary Estelle e che in realtà reagisce anche alle idee di Locke è una filomonarchica come era una filomonarchica Cavendish quindi dal nostro punto di vista dalla nostra prospettiva è qualcuno che sta dalla parte dei vinti della storia noi che viviamo in un mondo democratico che si è emancipato dalle idee monarchiche del mondo premoderno grazie anche attraverso queste rivoluzioni del Seicento e del Settecento in realtà abbiamo a che fare con due figure femminili che sono dalla parte di queste idee filomonarchiche e però allo stesso tempo pur essendo filomonarchiche queste due donne portano avanti una chiara strategia così filosofica e politica di difesa di alcune prerogative delle donne e della condizione femminile allora è interessante questo perché in qualche modo ci porta a dover farci una domanda su cosa sia la modernità politica la modernità politica siamo abituati a pensarla come l'avvento dell'età dei diritti anche come l'avvento dell'età dei diritti e quindi Hobbes che era anche lui filomonarchico però in realtà discute a lungo l'idea dei diritti della titolarità dei diritti degli esseri umani Locke scrive una carta dei diritti poi ci sono due donne Margaret Cavendish e Mary Estelle che in realtà reagiscono e scrivono diciamo parlano degli stessi temi di questi pensatori ma lo fanno difendendo l'idea una certa idea di eguaglianza di genere che va contestualizzata ovviamente in quello momento storico specifico cos'è più moderno allora? questa è un po' la domanda provocatoria difendere i diritti sì oppure potremmo paradossalmente vedere la modernità politica come il risultato delle idee di Cavendish e Astelle cioè come un tentativo di cominciare a difendere delle idee di eguaglianza di genere tra l'altro Astelle fa questa critica a Locke cioè gli dice tu parli di diritti di tutti quanti ma questi diritti sono soltanto diritti degli uomini quindi non sono diritti universali in realtà quindi sono loro stesse diciamo che utilizzano come dire l'armamentario concettuale dell'eguaglianza di genere per criticare la narrativa tradizionale dei diritti e questa posizione di Astelle sull'opera di Locke mi porta a discutere la figura che è protagonista del nono capitolo che è Olande de Gouges anche questa è una figura veramente interessante che opera, scrive e è anche in qualche modo un attivista durante gli anni duri e puri della rivoluzione francese e ci sono due opere sulle quali mi concentro in particolare che sono secondo me particolarmente indicative del ruolo originale che molte di queste donne hanno svolto nell'epoca precedente a quella contemporanea una è una riscrittura della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino dalla prospettiva di una donna cioè Olande de Gouges dice ok c'è la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino ma e noi donne dove siamo? e quindi decide di scrivere una dichiarazione dei diritti delle donne e delle cittadine in cui riprende quasi verbatim alcune parti della dichiarazione ufficiale che era stata pubblicata dalla convenzione durante gli anni della rivoluzione francese all'inizio della rivoluzione francese e declina questi diritti in senso di parità di genere o addirittura risposta direttamente sulle donne Olande scrive anche molto altro scrive anche delle opere più specificamente filosofiche e delle opere teatrali in una di queste opere teatrali mi soffermo un po' nel capitolo settimo tra l'altro porta avanti un'idea anche questa particolarmente innovativa per l'epoca perché difende la possibilità che gli schiavi di colore delle colonie francesi nello specifico di Haiti debbano in realtà essere emancipati come schiavi e quindi debbano essere dichiarati liberi perché in un momento come quello dopo la rivoluzione francese effettivamente ha poco senso che ci siano degli schiavi che vengono come dire riconosciuti giuridicamente come tali e quindi all'interno di questo contesto c'è quest'idea particolarmente avanti rispetto ai tempi non è l'unica che in realtà a portarla avanti però comunque è particolarmente interessante che Olampe una persona una donna al di fuori dei circoli ufficiali dove pensiero anche la rivoluzione francese in realtà si faccia portavoce di un'idea come questa quindi l'idea del volume come ho detto è quella di raccontare tutte queste pagine di storia e pensiero politico attraverso il modo in cui un'idea precontemporanea dell'equalianza di genere diventa un criterio guida in alcuni di questi pensatori l'ultima cosa che voglio menzionare è che credo che un altro vantaggio del libro sia la possibilità di poterlo anche leggere di poter leggere i diversi capitoli i nove capitoli anche separatamente nel senso che sì c'è una storia continua però in realtà ognuno degli episodi raccontati in ogni capitolo ha una storia a sé no? e quindi può essere letto anche indipendentemente nella misura in cui qualcuno magari possa essere interessato più a certe epoche piuttosto che ad altre ecco quindi questo diciamo beh allora bisogna ricordare il titolo perché possano correre in libreria ad acquistarlo che poi è uno dei motivi per cui lo presentiamo in video e il titolo è Il pensiero di Pandora Donne e politica dall'antichità al settecento appena pubblicato da Carocci di Alessandro Muglieri un libro che vale sicuramente la pena di acquistare e io non posso che ringraziare tantissimo Alessandro Muglieri a voi grazie a voi di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube dove oltre a questa trovate tutte le video presentazioni realizzate fino ad oggi grazie ancora grazie a voi 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 grazie a voi